Nella prima parte dedicata alle funzioni vi ho spiegato tecnicamente come si scrivono, come si richiamano, alcuni particolari tecnici sicuramente fondamentali. In questa seconda parte tenterò di insegnarvi a scriverle bene. Sono tornato sulla funzione che calcola l'area di un triangolo e qui c'è un aspetto molto importante, stilistico, da rispettare. Un errore di impostazione assolutamente da evitare e cioè, invece di passare esclusivamente tramite i parametri, i dati che servono per lavorare la funzione, chiederli con dei cin, cout all'inizio della funzione. Simmetricamente, invece di restituire il valore e poi lasciare che sia chi ha chiamato la funzione che decida cosa farne, stampare cout e stampare i risultati. La tentazione sarebbe stata quella di scrivere una funzione, magari addirittura void, e qui, dopo aver calcolato l'area, semplicemente stampare il risultato. E comunque l'errore rimarrebbe anche se avessimo lasciato double area triangolo, così è proprio il peggio. Ok, fa il calcolo, ma la funzione è completamente inutile, nel senso che, intanto, non è detto che ci interessi stampare il valore. Magari dobbiamo salvare su file il risultato, magari lo dobbiamo usare in un'espressione più complessa per fare altri calcoli, e non lo potremo fare, perché vedremmo solo comparire sullo schermo quel valore lì e poi basta. Cioè, nel main non sapremmo come raggiungere quel valore, no, per usarlo, l'area calcolata. La funzione, a meno che sia proprio una funzione specifica che deve usare la tastiera perché deve per forza essere lei a leggere qualcosa, oppure una funzione che deve essere per forza essere lei a stampare qualcosa, non dovrebbe mai fare input-output. La chiamo, i valori che le servono, battete bene, non li andrà a chiedere da tastiera, li riceverà come parametri, è fondamentale. E i valori calcolati non andrà a stamparli, ma li restituirà con il return. Riguardo la richiesta dei dati che non deve avvenire, una cosa tipo questa, dove si va a chiedere, inserire la base, e sotto il C, no? No, grande come una casa. Così, per forza, saremmo costretti a usare questa funzione quando deve essere l'operatore e inserire la cosa a tastiera. Ma se voglio leggere i valori di base altezza da un file, li ricevo da internet, li faccio generare molto casuale, potremmo averne anche la tastiera su quel sistema. I valori necessari si ricevono con i parametri. E nel main, o da un'altra funzione, chiamo questa, saremo liberissimi di scegliere il modo in cui otteniamo base altezza. Da tastiera, ok, da file, ok, eccetera. Tornando sulla questione del risultato, la funzione svolge le operazioni previste, ci restituisce il risultato. Poi saremo noi a decidere cosa fare. Stampare, salvare su file, inviare via internet, usare quel valore in un calcolo più complesso. Ecco perché, double, perché voglio vedermi restituire quel valore con un return. Ma non vado a sporcare lo schermo con un cout. E poi potrebbe neanche, e poi pensateci, chi l'ha detto che sul sistema dove sarà eseguita questa funzione, chi l'ha detto che ci sia il monitor? È un microcontrollore, è un qualcosa che va a finire nel chip che controlla la frenata in ABS di un'automobile. Capite che lì non c'è il monitor appiccicato al chip nel pneumatico per vedere la stampa. Non ha senso. Tu restituisci il valore. Fai una cosa sola. Esisti per calcolare l'area del triangolo, calcoli l'area del triangolo. Una sola cosa deve fare la funzione. Calcola e stampa sono da due cose. Non va bene. C'è un ultimo importante particolare da capire. Se i parametri non venissero specificati direttamente come due numeri, come quel 12670, ma double però. Facciamo finta di aver chiesto all'operatore o di aver letto da un file i valori con cui fare il calcolo dell'area. Qui per brevità li assegno direttamente. Intanto abbiamo già visto che non c'è nessun problema a chiamare qui nel main, se voglio, la variabile base esattamente come è stata chiamata qui come parametro. Non c'è nessun problema. Però potrei chiamarla anche x ed y. Di nuovo, senza alcun problema. 12 e altezza 670. Sfrutto ancora la variabile definita sopra. Ecco, questa volta indico le due variabili. Questa base, questa altezza. Qual è la cosa importantissima da capire? Che con questa modalità di passaggio dei parametri, che non a caso è chiamata per valore, by value, quello che succede è che l'espressione indicata qui viene calcolata, per cui si va a risalire semplicemente al valore della variabile base, e il risultato, il 12, viene copiato. Capite? Il risultato numerico, il valore numerico, che viene copiato qui. In questa base viene copiato il 12 e poi la funzione lo utilizza. Stessa cosa per altezza. Ma la variabile che indichiamo qui, questa o questa, non hanno nulla a che fare con questa base e questa altezza. Cioè, non è che se qui, per dire, giusto per fare una prova, ora che l'ho utilizzata la base, che se ne frega, la zero. Lo accetta il compilatore, non fa una grinza, solo che noi qua stiamo azzerando la variabile parametro, che è anch'esso locale, come questa area, alla funzione triangolo. Non stiamo toccando in alcun modo la variabile del main, che rimarrà col valore 12. La dimostrazione, ovviamente, beh, verifica più che dimostrazione, ce l'abbiamo stampando qua la base, e vedrete che è ancora 12. Prima di chiamare la funzione base vale 12, qualunque cosa faccia la funzione, dopo varrà ancora 12. Letto in un altro modo, significa che le variabili del segmento di codice che chiama la funzione, saranno al sicuro da qualunque azione, anche involontaria, dannosa da parte della funzione stessa richiamata. Con la modalità per valore by value, le funzioni ricevono, lo ripeto ancora un'ultima volta, una copia dei valori delle variabili coinvolte, non le variabili stesse. La funzione si ritrova a questi valori nei parametri, e con quelli potrà lavorare, come se avesse ricevuto, in effetti, una copia della variabile esterna. Giusto per completezza, anche se abbiamo deciso di non includerlo nel corso di recupero, come caratteristica più avanzata delle funzioni, insomma, c'è la possibilità di concedere il potere, la facoltà, le funzioni, di modificare davvero le variabili che sono indicate come parametri al momento della chiamata. Immaginate una funzione che deve scambiare i valori di due variabili, a e b, devo scambiare i valori, quello che c'è in a deve finire in b, quello che c'è in b deve finire in a. Eh, ma se non può modificare le variabili esterne, anche facendo lo scambio, poi quando torniamo nel main, i valori servono gli stessi. Sarebbe impossibile risolvere questo problema con una funzione. Invece, esiste una seconda modalità di passaggio dei parametri, quella chiamata, non a caso, per indirizzo, by reference, che permette appunto questo. Siete interessati, andate ad approfondire sulle dispense. Un ultimo particolare prima di chiudere. Una funzione può chiamare altre funzioni, che a loro volta possono chiamare altre funzioni. Una specie di catena, no? A chiama B, B chiama C, quando C finisce, ritorniamo in B, quando B finisce, ritorniamo ad A. Potremmo sintetizzare dicendo semplicemente che le funzioni possono richiamare a stare di loro. L'unica funzione che non può essere chiamata da altre è il main. perché è quella da cui parte il tutto. Nel prossimo video parleremo di Array, un altro argomento fondamentale per diventare davvero produttivi e diventare davvero dei programmatori. A risentirci.